Esistono davvero i supereroi? In macchina con mia moglie e mia figlia e ho visto due extracomunitari che aggredivano queste due donne, tra cui una incinta. A quel punto sono uscito dalla macchina e ho cercato di fermare questi due ragazzi che mi hanno aggredito. Grazie alle arti marziali mi sono difeso e con l'arrivo della polizia hanno immobilizzato queste due persone. Di Chiara che subito mette un destro, mette un destro e fa calcio. Si scambiano colpi a corta distanza, sbaglia la gabbia e in un clinch style, attenzione! Alla parete per ricercare di portare l'atleta a terra e questa volta viene portato. Ottima proiezione di Francesco Di Chiara che sta governando. Ora la fase di lotta a terra. Sono in posizione di mezzo guardia e c'è stata una sottomissione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!